Io non mi ricordo più come si gioca, sai? Chi sei? E ucciderli prima che ti individuino e ti uccidano. Ho capito, ma se io non mi ricordo... Un minuto al termine. Ltt ottiene un contratto. Ma io non ho capito... Sono arrivato ottavo. Che cazzo vuol dire? Così, in maniera molto allegra. E io settimo, ma non ho capito che cazzo si dove... Cioè, no. Nemmeno io ho capito che cosa bisognava uccidere. Infatti non ucciso nessuno. Io ho ucciso un passante. Non passa così, tanto per dire. Sì, vabbè. A quel punto. Visto che siamo qui, ammazziamo qualcuno. Brutto stronzo di merda. Ma come mi ha ucciso che lo stavo uccidendo io? Cioè, io vedo un tizio che si arrampica. Come ci si arrampica? Io mi ricordo più niente. Non mi si arrampica nei palazzi. Forse tra un po' spengo. Dai. Comunque faccio troppo schifo questo gioco. No, non mi corre. No, giuro che non lo sto capendo che succede. Ma poi tu giochi col pad della PS3, quindi è un casino. Cos'è? Che fa? No, ma non mi si arrampica nei muri da nessuna parte. Io adesso esco. È il pad, l'ho. Non è il pad, perché ho già giocato. Funzionato. Allora R2. Oh, gioca col pad. Allora R2? R2, per forza. No, no. Ti assicuro non si arrampica. Con R2 dovrebbe correre. Come? Oh, saldo il torre che giochi col pad. No, io devo scrivere le mail. Io difendo un po' la bandiera. Io quasi quasi provo a rubarla. Qua vediamo se riesco. Ora sei un po' la bandiera. No, mi hanno ucciso. Sono tutti appostati qua. Non si stanno muovendo. Che tristezza. Prima che ce l'abbia. Corra, 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 corra. La squadra rinica ha rubato il vostro manufatto. Il vostro manufatto è tornato alla base. Bene, 1-0. Stiamo. Allora, sono qui e non si muovono. Mi stanno cercando. Io sono appollaiato in alto. Io ho messo la bomba proprio dove c'era. Ah, ora ho visto dove sono. Sono nascosti dentro il fienile. Sono nascosti dentro il fienile. Vado ad aiutare l'alleata. Niente, non riesco a uccidermi mai. Però almeno forse gli ho fatto prendere in mano fatta a quello. L'ha portata a destinazione? No. Ma come no? Mi sono fatto ammazzare un po' di rimettere, incoglionito. Mi piace, c'è Zotlairelle che ne sta uccidendo un miliardo. La squadra rinica ha rubato il vostro manufatto. Ma come ha segnato? Il tuo alleato ha rubato il manufatto di nucleo. Passante è ucciso. Niente, non si possono uccidere i bloccino. Io non riesco ad ammazzarli. Perché non li posso ammazzare quando li incorro? E loro sì. Io ho un grosso problema sull'uccisione. Non riesco ad ucciderli. Ci sei tu lì, ok. Potremmo andarci insieme a fare... Facciamo un passaggio incrociato. Aspetta che io lo vedo. Ne ho uno agganciato e so che è il mio bersaglio. Il maniatore deve farli confondere e non fargli capire chi ha la bandiera. Esatto. Come ho fatto cadere il manufatto? Ah certo, mi hanno sparato. Però la bandiera è ancora lì. Comunque c'è questo qua che è praticamente dietro di te. In alto. Vabbè, pugnali da lano. Cioè mi hanno sparato nella gola. Vabbè. Si capisce comunque. Si capisce un cazzo. Torno a difendere, va. Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Un minuto al termine. Non è, comunque mi sa che vinciamo stavolta. Fotti di coglione. Hai rubato il manufatto nemico. Ok, ho preso l'alta manufatto anche. Me l'avevo portato. Award Winnie Min. È tipo Suka, ma non si può fare sempre benissimo. Suka. Suka. Io sono ultimo. Che schifo. Vabbè, io penultimo. Schifo 2. Oddio. Ho fatto io. Che schifo.